Musica Allora noi in generale prepariamo le macchine, una storica Alparomeo e prepariamo oltre che le macchine di serie il racing che sono 40 anni che le facciamo e in questa occasione abbiamo creato un club dell'Alpha Racing Club per i clienti appassionati e facciamo questo evento, l'abbiamo presentato qui e speriamo di fare una cosa buona per i nostri clienti e per le persone che si seguono Questa è la nostra attività, andremo a fare delle gare con l'Alparomeo in Europa che sono 5 gare europee e più qualcosa di italiano, adesso lo stiamo valutando come poterlo fare Musica